Perfetto di capitano, stacce in meglio. Sono i suoi bastoncini, 100% filetti di merduzzo da pesca sostenibile certificata FSC. Bastoncini di capitani, solo il meglio per i capitani. Non gran pezzo di buio proverai, lo ricoglio. Ti sorprende per chi ami? Solo basilico fresco, lavorato fino a racconto e ingredienti selezionati. Che consistenza che tutto il gusto mediterraneo. Gran pezzo di buio. Sì, scopri le nuove specialità, pomodori seri e distarchi e vede il maio di distarchi. Stai alla licenza di una calma di perfetto, a prezzo di basso. C'è una paura di un miglior in Italia, confermata nel santo di tutti i principali siti di bianco. E' un'altra, all'idea, a parte della nuova. Non è un buio, è un buio. MZKX, idrosalina del santo. Fondiglia salvezza, costituzza, eccessiva situazione. Fondiglia salvezza, costituzza, eccessiva situazione.